Signore e signori, benvenuti al Festival della Valle Lucchia. La 49esima edizione è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Martina Tracca, Comune di Cisterno, Camera di Commercio di Taranto, Masteria Torremaizza Roccoforte Hotel, Masteria Croce Vincola, Consorzio di Utile e Sviluppo Albea Land, Eurospin Puglia. Grazie. 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 Grazie.